Salvatore e Silvia sono marito e moglie E' da ridere Auguri padatemi, sappi una cosa, me la pagherai perché adesso tu non ci sarai più qua E noi saluto quando abbiamo voglia di stare con te, come facciamo? Aiutate Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Silvia, ricevi questo anello nel segno del mio amore e della mia fedeltà Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Salvatore, ricevi questo anello segno del mio amore e della mia fedeltà Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Nel nome del Padre, del Figlio e dillo Spirito Santo Madame del Padre, del Padre, del Padre, del Padre, del Padre, del nostro Natale Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto.